Forza! Eden, scendi, devi fare una cosa! Scendete o vi trascino fuori tutti e due per i piedi! Muovetevi! Finalmente! Scendi, salta giù e mettiti qui in ginocchio, qui! Guarda verso la strada! Cosa fai? Le spari! No! Le spari tu! Prendi! No! Tu prendi sta cazzo di pistola e la punti qui dietro alla testa! Non sentirai niente! Un colpo secco! Vai! Indolore! Umano! Por favor! Io spraio! Por favor! Espera! Por favor! Por favor! Por favor! Io leio te! Che fai, no? Vieni qui. Vieni qui. Che fai? Non ci credo. Stavi veramente per farlo. Sei proprio matta. Sei matta. Non vuoi andare a mangiare? Hai fame? Sì? Dai, andiamo a mangiare. Ehi, andiamo. Rimettiti in piedi, alzati. Ehi, era uno scherzo. Hai capito? Era solo uno scherzo. Monta sul furgone, svelta. Si va.